Eccoci qui insieme, questa mattina cambiamo argomento e parliamo di medicina. Perché? Perché abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Giacomo Germani, che è un dirigente medico dell'unità di trapianto multiviscerale dell'azienda ospedaliera di Padova, diretta dalla professoressa Patrizia Aburra, che è stata anche ospite qualche volta qui da noi. È una unità speciale che si occupa di tutte le questioni collegate alle malattie degli organi interni, in particolare anche in previsione o dopo un trapianto. e Giacomo Germani appunto è venuto a parlarci un po' di tutti questi argomenti. In realtà vi occupate di molte cose all'interno dell'unità. Sì, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Sì, diciamo che ci occupiamo prevalentemente di pazienti con malattie di fegato, che vanno da malattie di fegato in buon compenso, quindi senza complicanze particolari, fino a pazienti con una cirrosi avanzata, che quindi potrebbe necessitare di un eventuale trapianto di fegato, e poi di pazienti anche dopo il trapianto per irregolare, come noi chiamiamo follow up, quindi per i controlli regolari dopo il trapianto, o anche per gestire eventuali problematiche mediche, complicanze mediche che possono insorgere nel post-trapianto. Infatti abbiamo intitolato la puntata La salute del fegato, perché tante volte si corre ai ripari quando ormai è già tardi, le malattie sono già conclamate, come avete sentito, ma si può fare ovviamente molto anche in ordine alla prevenzione, anche quando ci sono già dei problemi al fegato. Sì, diciamo che ci sono alcune patologie in cui, diciamo, per esempio quella da alcol, dove per esempio l'eliminazione dell'alcol, già sin dall'inizio può portare ad un miglioramento significativo della funzionalità del fegato. Quindi la stensione da bevande alcoliche, ma anche una dieta regolare, un'alimentazione regolare, possono in alcuni casi essere importanti per recuperare quel danno che in un certo senso è stato già determinato a livello del fegato. Perché il fegato, lo sappiamo tutti, ormai è un organo che in parte si rigenera sostanzialmente, e questo avvantaggia moltissimo anche i medici, che anche a Padua sono tra i migliori specialisti collegati proprio alla chirurgia del fegato, al trapianto di fegato, però insomma, preservarlo in buona salute, credo che sia buona norma per non incorrere veramente in un trapianto, che si porta dietro tutta una serie di complicanze, di cui il rigetto è solo la prima delle ipotesi. Ecco, dicevamo le malattie che derivano dall'alcol, siamo in una regione in cui purtroppo il consumo di alcol è molto alto, ma anche è alto nella popolazione giovane, perché per via anche delle mode che sono andate alla ribalta, lo spritz e cose di questo genere. La situazione com'è? Avete dei dati o avete dei riscontri? Sì, quello che ha detto è corretto. Diciamo che vi è una differenza in termini di consumo alcolico dal sud al nord Italia, con un consumo più elevato ovviamente nelle regioni del nord. Diciamo che quasi più del 20%, quasi il 22% di persone riferiscono a un consumo alcolico giornaliero, quindi bevono quotidianamente. E se poi prendiamo una modalità... Bevono, si intende bevono un bicchiere di vino o bevono smodatamente? Viene considerato almeno un'unità di alcol. Un'unità di alcol vuol dire per esempio un bicchiere di vino o un superalcolico. Questi sono i termini tecnici. Però ci sono poi delle modalità di assunzione alcolica, come per esempio quello che viene definito in inglese binge drinking, ovvero un consumo di almeno sei unità alcoliche, quindi per esempio i giovani almeno sei spritz o sei birre in un arco di tempo molto ridotto, che può andare dalle due o tre ore, ecco in quel caso invece purtroppo i dati sono più allarmanti. Ah sì? Sì, perché siamo passati da... questi sono dati Istat, siamo passati da un 25-24% di qualche anno fa e siamo arrivati quasi a un 26-27% all'interno della fascia che va dagli 11 ai 40 anni. Però, cioè è un quarto della popolazione giovane, che devo dire è una percentuale effettivamente allarmante, anche perché su questo tipo di popolazione probabilmente i danni non si vedono istantaneamente, cioè si vedranno nell'arco del prossimo decennio? Diciamo che poi lì dipende dalla tipologia di danno, perché ci sono quelle che vengono definite epatite acute e alcoliche, cioè un danno acuto che è tipico per esempio nei paesi anglosassoni, tipo il Regno Unito, in cui si può vedere un danno immediato dopo magari un'assunzione forse anche più grave e più duratura nel tempo di questo tipo. In altri casi invece cosa più tipica della nostra nazione, delle nostre regioni, sono invece danni cronici, a cui si possono sempre però sovrapporre danni acuti dovuti a un'ingestione di alcol importante in un breve tempo. Quando è che comincia ad ammalarsi il fegato? Beh, diciamo che quando, per quanto riguarda l'alcol, quando ormai la capacità di rigenerazione del fegato è più dannosa che benefica, ovvero quando l'infiammazione continua provocata in questo caso dai metaboliti dell'alcol porta ad un'infiammazione e ad una rigenerazione tramite fibrosi, tramite setti proprio cicatri, immaginiamo le cicatrici che possiamo avere sulla pelle, questo avviene lo stesso a livello del fegato e questo provoca poi una scomparsa di tessuto sano che è quello che poi serve alle funzionalità normali del fegato. Quindi non è più capace di rigenerarsi attraverso questo tessuto che è più fibroso e più... E non solo non è capace di funzionare adeguatamente. Quindi ci si accorge di essere malati di fegato o ci si accorge solo quando il danno ormai è conclamato? Purtroppo ci si accorge spesso quando ci insorgono delle complicanze della malattia di fegato, ne sono tantissime, possono andare dall'accumulo di acqua per esempio all'antelli al velo dell'addome o delle gambe oppure a volte purtroppo ci sono dei sanguinamenti gastrointestinali, si può diventare gialli il cosiddetto ittero, in altri casi invece magari per controlli di routine si possono verificare il riscontro di aumento di alcuni esami del sangue come per esempio le transaminasi o la bilirubina e allora lì forse si riesce a risalire la malattia un pochino più in anticipo. Ecco, siamo tutti un po' terrorizzati quando andiamo dal medico a fare questi famosi esami quando vediamo scritto triglicieli di condesterolo, tutte queste cose che comunque hanno a che fare con la salute dell'organismo e del fegato in particolare perché se bere smodatamente fa male, anche il fatto di essere sovrappeso sicuramente non aiuta il fegato. Assolutamente no e lei ha toccato un tema importantissimo perché ormai circa il 30% o 33% della popolazione italiana parliamo è sovrappeso e circa un 10% è addirittura obeso e questo purtroppo si riflette anche a livello del fegato, non è solo un problema di complicanze cardiovascolari spesso associate a chi è appunto sovrappeso obeso ma ci viene anche un accumulo di grasso che così come lo si accumula a livello dell'acute, dell'addome o dei glutei classicamente ma si accumula anche a livello del fegato e questo è dannoso. Si accumula a livello del fegato ed è penso una diagnosi non semplice, non è una cosa che abitualmente viene controllato se il fegato ha accumulato della massa grassa? No infatti, infatti di solito la diagnosi ed è una diagnosi che fino a qualche anno fa era una diagnosi di esclusione ovvero si escludevano prima le cause comuni quindi l'alcol o le ipatiti virali per poi arrivare a forse questa causa cosiddetta metabolica. Oggi invece con dei sistemi un pochino più sofisticati, un pochino più precisi come per esempio anche la stessa ecografia o alcune risonanze magnetiche ad hoc per il problema si riesce a identificare proprio l'accumulo di grasso a livello del fegato che appare per esempio più brillante, più chiaro rispetto a un fegato normale. Ecco, e questo cosa comporta? Lei diceva alcuni tipi di malattie, parliamo sempre di cirrosi? Vi sono diversi stadi, si parte da un accumulo di grasso semplice a livello del fegato, la cosiddetta steatosi epatica per poi passare nel 20-30% dei casi a una steatoepatite, quindi vuol dire grasso più infiammazione, per poi passare a cirrosi e anche al sviluppo di epatocarcinoma, cioè un tumore del fegato. Ah, quindi può portare a conseguenze gravissime questo? Assolutamente, sì. E può dimagrire come dimagrisce la persona o è reversibile questo tipo di...? Allora, questa è una domanda interessante perché ci sono moltissimi studi in questo momento, essendo la patologia poi esplosa in questi anni, sembra che innanzitutto un'attività fisica regolare e una dieta regolare possa avere dei benefici sia in termini di funzionalità del fegato che in termini di quantitativo di grasso a livello epatico, ma anche di esami del sangue, di miglioramento degli esami del sangue. Ci sono alimenti che possono favorire la salute del fegato? Beh, alimenti che la favoriscono in particolare non esistono, diciamo che una dieta regolare, noi abbiamo la fortuna di vivere in Italia in cui abbiamo una dieta mediterranea che dovrebbe essere alla base della vita di ciascuno di noi. Di conseguenza una dieta regolare e una regolare attività fisica dovrebbero essere sufficienti per prevenire questo tipo di patologia. Quindi diciamo che le regole auree valgono per tutte le patologie in generale e a maggior ragione anche per il fegato, lo dico anche a me stessa perché tante volte magari si fa ovviamente fatica a fare attività fisica così però insomma non bisogna demordere, bisogna continuare a farlo. Parlavamo delle epatiti che è un'altra cosa che spaventa, spaventa anche perché si possono prendere le epatiti magari viaggiando, magari assumendo degli alimenti che non sono stati conservati bene, andando magari a qualche ristorante non particolarmente ben gestito o anche in casa magari un aumento mal conservato. Sono diverse le forme di epatiti? Sì, diciamo che quello che ha nominato lei sono epatiti di tipo A, sono di fonte prevalentemente alimentare e queste di solito possono essere di tipo acuto e in rari casi possono essere di forma fulminante e quindi anche in quel caso poter necessitare di un trapianto, però normalmente si autorisolvono. Quelle invece che noi di solito vediamo più frequentemente i nostri ambulatori e a volte possono portare anche alla necessità di trapianto sono l'epatiti di tipo B o l'epatite C. Queste sono le due forme diciamo più frequenti. E cosa succede? Che tipi di interventi si possono fare? Beh, ci sono delle terapie farmacologiche che cercano di eliminare il virus e quindi di impedire al virus di replicarsi e di dare danno a livello del fegato e anche di altri organi. Ecco, soprattutto per l'epatite C so che ci sono anche delle novità interessanti. Sì, diciamo che nel corso degli ultimi anni ormai stanno prendendo piede in maniera sempre più importante i nuovi farmaci antivirali che permettono diciamo l'utilizzo solo di alcune pastiglie e non più del vecchio interferone che era il farmaco diciamo che dava maggiori complicanze per il paziente e sono farmaci con un'altissima efficacia. Abbiamo tassi di risposta nei pazienti con semplice epatite che va dal 90 al 100% dei casi che fino a qualche anno fa era un dato quasi inimmaginabile. Ma devo dire che da un certo punto di vista sono contenta, da un altro punto di vista ogni volta che si trovano delle agevolazioni, dei farmaci per curare delle malattie sia quasi una scusa per dire no, ma non tanto si può curare e ricrescono magari le percentuali di esposizione dovute a eccessi, cattiva alimentazione, un utilizzo di sostanze superficienti perché anche le sostanze superficienti hanno conseguenze sul fegato e quindi c'è sempre questa doppia visione della faccenda. L'abbiamo detto anche per quanto riguarda l'AIDS per esempio quando si è trovata una terapia per salvare le vite i livelli di malattia sono cresciuti e il livello di attenzione e anche dell'informazione è un po' calato. Prevenire è sempre meglio che curare anche in questo caso. Assolutamente, diciamo che per quanto riguarda l'epatite B poi i dati sono nettamente in calo grazie alle vaccinazioni, mentre per quanto riguarda l'epatite C purtroppo essendo un virus che è stato scoperto alla fine degli anni 80, adesso stiamo ancora vedendo i pazienti che sono stati infettati in quegli anni. Diverso è il caso, come giustamente ha detto lei, dei pazienti che fanno uso di sostanze per via endovenosa e di conseguenza in quel caso la prevenzione risulta fondamentale. Ecco, diciamo che se ne parla poco delle conseguenze che può avere il consumo di sostanze stupefacenti sul fegato perché spesso parliamo dei danni neurologici che possono essere provocati, ma che cosa succede all'organismo, al fegato in particolare? Beh, dipende poi dal tipo di sostanza. Ci sono sostanze tossiche, sostanze stupefacenti quali per esempio l'ecstasy, che possono dare anche forme fulminanti di malattia. Possono esattamente, diciamo, distruggere, dare una necrosi cellulare di tutto il fegato in maniera molto rapida, molto repentina, tanto è vero che questi pazienti necessitano del trapianto nell'arco di 24-48 ore. E che incidenza ha questo? No, diciamo che per fortuna in Italia è una patologia rara rispetto per esempio ai paesi anglosassoni, però quando avviene è una problematica di altissima urgenza. Ma perché se ne consuma meno di Eclas, quindi la percentuale è più bassa? Perché le condizioni sono diverse? Perché no, diciamo perché è una problematica che per fortuna in Italia non è così evidente come in altri paesi. Lo stesso per esempio anche le fulminanti, le patite fulminanti da paracetamolo, la classica tachipirina per dire, nel Regno Unito dove la vendita è un farmaco da banco che si vende al supermercato a prezzi molto bassi, per esempio, lì è una delle forme principali, una causa delle principali di patite fulminanti. Da noi non lo è per altri motivi. E le altre droghe invece, per esempio le più classiche, la cocaina, l'eroina, le droghe leggere, hanno effetti sullo fegato? Hanno ovviamente un effetto sul fegato, anche perché il fegato metabolizza qualsiasi tipo di sostanza che noi introduciamo nel nostro organismo. In quel caso, diciamo che può dare danno quando è unito ad altri fattori di rischio, per esempio l'alcol, però diciamo che può dare danno quando viene assunta per via endovenosa, perché in quel caso il rischio è anche quello di contrarre l'epatite C. In quanto tempo si ammala una persona, per esempio, che si espone al consumo di alcol quotidianamente? Beh, dipende, perché ci sono tantissimi fattori che possono influire, ci sono fattori genetici, dipende dalla quantità di alcol assunto giornalmente. Noi abbiamo pazienti che ci dicono ma come è possibile io non ho mai ceduto nel consumo di alcol eppure ho la cirrosi. E lì purtroppo è sicuramente una componente genetica. In altri casi invece ci sono pazienti che assumono quantità di alcol importantissime senza poi sviluppare una malattia cronica. Diciamo comunque che nel caso di patologie croniche queste si sviluppano nell'arco di almeno uno o due decenni. Quindi c'è un tempo abbastanza... c'è modo di meditare, di smettere. Sotto due decenni sono un tempo abbastanza ampio. Ecco, voi appunto vi occupate di tutte queste malattie ma vi occupate anche della lista d'attesa per quanto riguarda i trappianti di fegato e appunto della gestione dei malati sia prima che dopo l'intervento. Sappiamo che appunto tante specialità chirurgiche nuove ci sono che salvano il fegato, porzioni di fegato. Poi ci è venuto a parlare il direttore dell'unità dei trappianti di fegato anche di una nuova tecnica che prevede un'incisione a metà del fegato che in questa maniera riesce a rigenerarsi. Però rimane nell'estrema razio anche la necessità di fare questo trappianto. La lista d'attesa in questo momento ha subito dei benefici dal fatto che ci sono tutte queste nuove tecniche oppure rimane sempre purtroppo lunga? Diciamo che la lista d'attesa è sempre più lunga rispetto a quella che è l'offerta di donazione che abbiamo e c'è sempre questa forbice appunto tra necessità, tra bisogno e poi reale disponibilità di organi. Questo vale per un po' tutti gli organi a livello nazionale. Ovvio che per il fegato dove la donazione da vivente è più complessa rispetto per esempio a quella del rene, abbiamo una risorsa in meno da poter utilizzare nell'attività di tutti i giorni. Quando decidete di mettere un paziente nella lista d'attesa per il trappianto di fegato? Perché penso che questo accada molto prima che in realtà ci sia l'estrema urgenza di intervento perché esistono i cuori artificiali ma i fegati artificiali non credo ancora. No, diciamo che mettiamo in lista d'attesa un paziente quando ci accorgiamo che le complicanze della malattia evolveranno verso un esito negativo, questo nella maggior parte dei casi oppure quando abbiamo delle patologie acute e fulminanti che sappiamo che nell'arco di poche ore porterebbero ad ecesso il paziente. Diciamo che ne parliamo qualche volta di questo aspetto però non così frequentemente come avveniva in passato della disponibilità delle persone a donare gli organi e ogni tanto sentiamo qualche segnale di allarme anche da parte dei medici proprio su questo aspetto che magari le donazioni calano. Attualmente avete dei dati? Devo dire che sì, devo dire che nei primi sei mesi dell'anno abbiamo avuto un aumento delle donazioni, abbiamo avuto un aumento del numero di trapianti anche nella nostra regione, normalmente i trapianti negli ultimi anni in Italia in genere sono sempre stati intorno ai superiore ai mille per anno e per quanto riguarda le donazioni, devo dire che in Veneto, il Veneto è una delle regioni con il più alto tasso di donazioni in Italia, la prima è la Toscana, però noi ci siamo assestati su un buon numero di donazioni, ci sono altre regioni purtroppo in Italia che hanno un numero di donazioni molto basso, i tassi di opposizione alla donazione è ancora molto elevato, in generale in Italia il tasso di opposizione è circa del 30% per farlo capire. Quindi per esempio per altri organi è necessario che il paziente abbia una certa anche età biologica, per il fegato invece forse lo spettro è più ampio? Lei parla per il ricevente, anche proprio per l'aspetto della donazione? No, la donazione non ci sono limiti sostanziali di età, quello che fa la differenza a livello della donazione è quello che noi definiamo qualità dell'organo, quindi in termini di appunto, come dicevamo prima, accumulo di grasso all'interno del fegato, se il fegato è stato danneggiato nel corso degli anni, se ci sono altre copatologie che potrebbero rovinare la funzionalità del fegato, quindi complessivamente non c'è un limite definito. Beh, appunto è una cosa che differenzia per esempio da altri organi che magari nel corso degli anni hanno, decadono un pochino anche, diventano, faticano a funzionare, mentre il fegato è veramente un soggetto interessante del nostro corpo perché è sorprendente questa sua capacità di rigenerarsi fino alla fine degli anni, quindi sostanzialmente è una qualità che conserva anche da adulti e poi da anziani. Certo, lì poi dipende ovviamente anche dal ricevente perché è ovvio che un fegato perfetto di solito viene utilizzato in un paziente molto malato, un fegato invece che magari ha subito un po' di danno nel tempo ma che comunque potrebbe funzionare bene, allora in quel caso quel fegato può essere utilizzato anche per una persona che invece potrebbe avere come lista d'attesa diversi anni e che quindi potrebbe beneficiare anche dall'utilizzo di un fegato. Noi ci dobbiamo fermare ancora un attimo per la pausa pubblicitaria ma poi torniamo insieme per sentire che cosa succede anche dopo un trapianto di fegato e come vengono gestiti i pazienti che alla fine vengono sottoposti al trapianto. Ci sentiamo tra pochissimo. Eccoci qui, siamo insieme questa mattina per parlare della salute del fegato e lo facciamo con il dottor Giacomo Germani dell'unità di trapianto multiviscerale dell'azienda ospedaliera di Padova. È una unità che opera attraverso diverse specialità di cui avete sentito questa mattina. Sicuramente la salute del fegato per loro è uno degli elementi principali dell'attività, non sempre però si riesce a prevenire qualsiasi aggravamento delle patologie e talvolta occorre intervenire con un trapianto di fegato. Tra l'altro a Padova, essendo un centro di particolare rilievo da questo punto di vista, ce ne sono, adesso non so se sa il numero preciso dei trapianti di fegato che vengono realizzati ma credo che sia uno dei centri in cui se ne fanno di più. Sì, è il quarto centro in Italia, questi sono i dati del 2015, sono stati eseguiti di 77 trapianti. 77 quest'anno sostanzialmente, nel 2015, 77 trapianti. Ecco, cosa succede a un paziente che viene trapiantato? Si ritorna a una vita come era prima dell'intervento o prima che si ammalasse il fegato o ci sono delle prescrizioni particolari e devono seguire un itinerario speciale questi pazienti? Di prescrizioni ce ne sono ovviamente, è un intervento molto complesso, abbiamo la fortuna di avere un'unità di chirurgia che è di altissimo livello e quindi spesso i risultati sono ottimali, però ci sono delle linee guida diciamo in generale o comunque delle terapie particolari che il paziente deve seguire. Prima fra tutti la terapia monosoppressiva che è quella terapia farmacologica che serve per evitare il rigetto dell'organo. Quindi subito dopo il trapianto viene preso in carico da voi? No, il paziente viene dimesso, quando viene dimesso poi ha un itiner chirurgico perché ovviamente l'iter chirurgico è fondamentale e poi quando la parte chirurgica è risolta iniziamo a vedere anche noi il paziente sempre in affiancamento, in equip con il team chirurgico e quello che seguiamo è ovviamente, come dicevo, la parte farmacologica e tutta quella parte che serve per valutare se insorgono determinate complicanze o problematiche mediche a breve e lungo termine. Quindi che tipo di situazioni vi potete trovare di fronte? Dipende poi dal periodo rispetto al trapianto di fegato, si va dalle infezioni che sono molto comuni nei primi mesi o nel primo anno dopo il trapianto o al rigetto acuto dopo il trapianto fino a complicanze come l'insufficienza renale, quindi il rene che inizia a funzionare un pochino peggio, oppure complicanze cardiovascolari, complicanze metaboliche, quindi l'accumulo di quello che parlavamo prima, l'accumulo di grasso, l'incremento di peso può insorgere anche a lungo termine, a medio termine dopo il trapianto. Può insorgere per le conseguenze del trapianto o perché la persona alla fine fa una vita che lo porta a questo? Perché la persona, spesso una persona che arriva al trapianto è molto malata e quindi riacquisire le capacità che aveva perso negli ultimi anni prima del trapianto lo porta a mangiare di più, a svolgere meno attività fisica e quindi ad accumulare peso anche in maniera molto rapida nel giro di qualche mese. Sono pazienti molto debilitati, quindi sostanzialmente ho lanciato il mio foglio, non si è visto in diretta, non si è visto, ma ho lanciato il foglio attraverso, arrivano quindi molto debilitati il trapianto. Sì, la maggior parte dei pazienti arriva con malattie molto severe e in condizioni molto precarie. Ecco, voi so che qui all'ospedale a Padova, l'azienda ospedaliera, avete lavorato moltissimo anche sul versante del rigetto, cercando nuove vie, nuove strade anche proprio nella terapia che segue il trapianto di fegato, a che punto siamo? Diciamo che per quanto riguarda il fegato è un organo privilegiato, immunologicamente è un organo privilegiato rispetto al rene per intenderci, il rigetto d'organo nel rene è un rigetto molto più severo e si può perdere anche l'organo per il rigetto. Nel fegato invece è un qualcosa che ci preoccupa di meno, anzi a volte ci sono alcuni studi che dimostrano come il rigetto sia qualcosa di necessario affinché poi i due sistemi immunitari del donatore e del ricevente inizino... Ci vuole una crisi, un momento di crisi, come nelle coppie a volte. E quindi diciamo che lo trattiamo ma senza particolari allarmismi, a volte basta solo modificare un po' la terapia immunosuppressiva o fare delle terapie un pochino più specifiche ma non ci sono grossi allarmismi. Diverso invece il rigetto cronico a lungo termine dopo il trapianto. Ecco, questa è una cosa che spaventa penso tutti perché come in ogni tipo di trapianto è ovvio che la paura è quella che ci possa essere la necessità di un secondo intervento, un rigetto a lunga distanza, anche in questo caso è un'evenienza che... È un'evenienza rara però è un'evenienza che si può presentare purtroppo e in quel caso lì il secondo trapianto è un trapianto più complesso rispetto al primo. Immagino perché le condizioni, diceva che sono già molto debilitanti in partenza, quindi se un trapianto non va bene presumo che dia dei segni molto prima e l'organismo ne risente ovviamente. Per fortuna, dico sempre, per fortuna che ci sono delle soluzioni per tante di queste situazioni e che la medicina continua a studiare alternative, strade alternative per garantire sempre una più alta qualità di vita e lunga vita ai pazienti. Dicevamo prima delle liste d'attesa per il trapianto e delle donazioni, io sono rimasta molto colpita dal fatto che ancora esiste una percentuale del 30% di opposizioni alla donazione, è una percentuale non piccola insomma. No, questo è un dato italiano ovviamente, è una media nazionale, poi ci sono delle regioni per esempio al sud purtroppo dove questa percentuale è molto più alta e delle regioni come al nord dove è un pochino più bassa. Purtroppo è un dato di fatto su cui noi per primi come medici dobbiamo riflettere e dobbiamo intervenire in qualche modo. Assolutamente, credo che sia anche perché appunto quando alla fine a noi non servono più magari possono salvare delle vite di altre persone quindi non vedo cosa possa ostacolare questo tipo di azione. Volevo parlare un po' anche dei vostri pazienti più giovani perché le malattie del fegato non colpiscono soltanto persone che hanno fatto i bagordi, magari hanno trattato male il loro organismo ma anche invece ragazzi o bambini che purtroppo sono vittime di patologie che arrivano all'improvviso. Sì, i pazienti pediatrici o più giovani comunque vengono seguiti da un'unità dedicata della pediatria però anche questi pazienti poi diventano pazienti adulti dopo il trapianto ed è da un po' di anni che abbiamo poi intrapreso un percorso di collaborazione molto stretta con i colleghi della pediatria e abbiamo creato un ambulatorio che si chiama ambulatorio di transizione perché proprio è un transito da un ambiente pediatrico in cui i pazienti spesso sono molto protetti e seguiti in maniera diversa rispetto a quello che succede poi in ambito dell'adulto e proprio questa transizione è un momento di difficoltà, è stato dimostrato in letteratura perché già il paziente giovane è un paziente un pochino più fragile con delle problematiche anche fisiche o anche psicologiche legate all'intervento, un intervento così importante eseguito in giovane età e quindi necessita di un supporto medico ma non solo, psicologico ed educazionale più complesso a volte rispetto a quello che succede per un paziente adulto. Quindi si creano delle equip? Assolutamente, si è fondamentale, noi diciamo sempre che il trapianto di fegato o comunque la patologia epatica è un qualcosa che necessita di un approccio multidisciplinare, non è il singolo medico che fa il trapianto o che gestisce un paziente così ma è un equip composto da tantissime figure mediche e non solo, necessaria per affrontare le problematiche che ci si pongono tutti i giorni. Io la ringrazio, so che tra l'altro siete reduci da un convegno nazionale importante avvenuto proprio in questi giorni qui a Padova, è un'unità assolutamente determinante appunto nell'evoluzione della cura dei pazienti che si devono sottoporre al trapianto o che hanno malattie croniche e quindi non mi resta che augurarvi il buon lavoro e una grande in bocca al lupo per il futuro a lei e la dottoressa Patrizia Burra. Grazie e noi ci vediamo come sempre invece domani. Buona giornata a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.